Un suggestivo concerto sul Monte della Madonna a Capodorlando, un omaggio a Maria organizzato dall'Associazione Culturale Musicale La Polifonica con il patrocinio del Comune di Capodorlando. L'Otturno a Maria Concerto al Monte è stato il titolo della manifestazione che ha aperto gli eventi del secondo fine settimana di agosto nella cittadina tirrenica. I 23 componenti della corale polifonica attiva nel centro paladino dal 1997 hanno deliziato il pubblico presente esibendosi nei pressi della chiesetta dedicata a Maria Santissima. In contemporanea al Miramare era stato allestito un maxischermo per assistere in diretta al concerto. Al termine dell'esibizione il giovane artista Mario Valenti ha donato alla parrocchia una scultura raffigurante la Madonna realizzata con un blocco di alabastro e che verrà posizionata sull'altare fino a quando non verrà ritrovato il simulacro originale. Ad arricchire l'opera di Mario Valenti le corone aure realizzate da Antonino Cucinotta con metallo frutto di donazioni. Grazie per la visione! Grazie per la visione!